Grazie a tutti. Grazie a tutti. E sento che dice, amici, vi chiedo di venire con me per la Giudea, se troppo non vi costa, specie a te, Simone. Anche perché è fatta per te e ora poi con te. Per l'incontro con chi mi ha conosciuto non c'è più asprezza di risentimenti e neppure di sentimenti nel cuore di Simone da quando è tuo. L'odio è caduto insieme alle scaglie del male. E non so, credilo, se dirti che hai fatto maggior miracolo nel guarirmi la carne corrosa o l'anima bruciata dal rancore. Penso di non errore nel dire che il miracolo più grande fu quest'ultimo. guarisce sempre meno facilmente una piaga dello spirito. Tu mi hai guarito ad un tratto, questo è miracolo. Perché no, ad un tratto uno non guarisce, anche se vuole farlo con tutte le sue forze, non guarisce l'uomo di un abito murale se tu non annulli quell'abito col tuo santificante volere. Non erri nel giudicare. Perché non lo fai con tutti così? Chiede Giuda un poco risentito. Ma lo fa Giuda? Perché parli così al maestro? Non ti senti diverso da quando lo avvicini? Io ero già discepolo di Giovanni, il battezzatore, ma tutto cambiato mi sono trovato da quando egli mi ha detto vieni. Giovanni, che generalmente non interviene mai e specie se c'è da farsi avanti al maestro non lo fa mai, questa volta non sa tacere. Dolce e affettuoso ha posato una mano sul braccio di Giuda come per calmarlo e gli parla affannoso e persuasivo. Poi si avvede di aver parlato prima di Gesù, arrossisce e dice «Perdono maestro, ho parlato in tua vece, ma volevo che Giuda non ti addolorasse». «Sì Giovanni, ma non mi ha addolorato come discepolo. Quando lo sarà, allora, se persisterà nel suo modo di pensare, mi addolorirà. Mi rattrista solo constatare quanto l'uomo è corrotto da Satana, che gli travia il pensiero. Tutti, sapete, tutti avete il pensiero turbato da lui. Ma verrà o verrà il giorno in cui avrete in voi la forza di Dio, la grazia, avrete la sapienza col suo spirito. Allora avrete tutto per giudicare giustamente». Mi fermo, figlioli miei cari, perché ci sono delle cose molto importanti già adesso da commentare. La prima cosa, l'intervento di Simone. Questo è Simone lo Zelote, quello che era stato guarito da Gesù, dalla sua lebbra, che aveva avuto un passato, una vita abbastanza tumultuosa. È un apostolo poco conosciuto, lo si conosce meglio, soltanto grazie agli scritti di Maria Valtorta, che ne approfondisce un pochino il profilo. Una delle cose belle di questi scritti è proprio la conoscenza e l'approfondimento del profilo dei dodici, che nei Vangeli sono molto scarnamente rappresentati, alcuni sono soltanto nominati. Per esempio, se chiedessi a uno, Filippo, chi è? Filippo di Bezzaida di Galilea, non saprebbe dire quasi niente. Giuda Taddeo, che pure ha scritto una lettera apostolica, nei Vangeli non apre bocca, mai. Così come l'altro cugino di Gesù, Giacomo, il primo vescovo di Gerusalemme, nei Vangeli non apre bocca. Quindi, la bellezza di questi scritti è proprio in questo, quindi la conoscenza dei profili apostolici. Simone era una persona molto grande, molto avanzata negli anni, molto vissuta, perché molto provata anche da una vita, ripeto, molto, molto travagliata, anche di peccato, nel mondo. Quindi, non per niente si chiamava Simone Lozelota. Lozelota significa che aveva fatto parte del movimento degli Zeloti. Gli Zeloti, a quei tempi, oggi non li chiameremo i rivoluzionari, erano quelli che professavano, avevano come programma politico, la rivolta armata per cacciare i romani dalla Palestina. Quindi, non erano proprio gente tranquilla, insomma. Erano un po' tipo i nuclei armati rivoluzionari degli anni settanta, insomma. Un po' così, insomma, però. Sembra che anche Barabba, il famoso Barabba, che era stato arrestato, come dicono i Vangeli, per sommosso e omicidio, fosse uno Zelota. Quindi, era gente di questo calibro, no? E fa un discorso molto, molto saggio. Dice, ti sarà aspro l'incontrare alcuni che ti hanno fatto del male. E subito Simone risponde. Dopo che tu mi hai sanato, sono più forte di un giovane, nessuna fatica mi pesa. E poi subito specifica, anzitutto che l'odio è caduto, insieme alle scaglie del male. E sentite che dice, non so dirti se hai fatto maggiore miracolo nel guarirmi la carne corrosa, dalla lebra, o l'anima bruciata dal rancore. Questa è una grande frase. Dobbiamo pensarci tutti quanti. Cioè, è cosa più grande? Essere guariti dalla lebra, o essere guariti dall'anima bruciata dal rancore? Ricordate quando Gesù guarisce il paralitico, la prima cosa che dice è, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. La guarigione del paralitico, Gesù la opera, non tanto per rimetterlo in piedi, ma siccome la gente mormorava, ah ma soltanto Dio può rimettere i peccati, allora che cosa fa? Ma ti dimostro che sono Dio guarendolo, quindi facendo il miracolo, perché dice, che cosa è più grande dire di sono rimessi i peccati, oppure alzati, prendi tutte le tucce e cammina. Ed è per questo che lo guarisce. Quindi più che la lebra dell'anima, Gesù è grande perché ha guarito l'anima bruciata dal rancore. e dice, penso di non errare nel dire che il miracolo più grande fu quest'ultimo. Vedete la saggezza di questo apostolo. E Gesù chiaramente gli dà ragione. Non erri nel giudicare. Però, subito dopo specifica, guarisce meno facilmente una piaga dello spirito di una piaga della carne. e dice, tu mi hai guarito di un tratto, quindi tutto insieme. Allora, ordinariamente la guarigione dalle nostre piaghe interiori e i peccati, i vizi, i difetti sono grandi piaghe interiori, avviene in maniera graduale. Anche adesso che noi siamo aiutati dalla grazia di Dio, cioè non ci si toglie ordinariamente un vizio, un difetto dall'oggi al domani. C'è un percorso, diciamo così, di guarigione, di liberazione. Tu l'hai fatto istantaneamente, quindi questo è un miracolo. Perché uno non guarisce, anche se vuole farlo con tutte le sue forze, non si libera di un abito morale, se tu non allulli quell'abito col tuo santificante volere. E qui subito Giuda interviene perché Giuda, questo perché possiamo cominciare a capire la psicologia dell'Apostolo, psicologia diffusissima, pretendeva che Gesù gli togliesse i difetti senza che lui facesse niente. Dice, ma signore, io sono cattivo e quindi tu mi devi guarire. E io non sono cattivo e se tu mi vuoi bene mi devi guarire, no? Lo vedremo, questo qui come un mantra, eh? Sono 700 pagine di roba. Come un mantra. A proposito, volevo fare una piccola parentesi, perché lo sto vedendo anche io non ho finito, che gratuitamente su YouTube c'è un film, più che un film a lungometraggio, perché dura poco più di un'ora, circa un'ora e dieci, fatto molto bene però, che si chiama Io sono Giuda, è gratuito, basta che si acceda a YouTube e si cerchi Io sono Giuda, che è praticamente, diciamo un film, ma è praticamente una, è una cosa molto molto particolare, è una rappresentazione teatrale in forma di film, perché gli attori sono bravissimi, si vede che fanno teatro, cioè non è un film, cioè con tutte quante le caratteristiche di un film, quindi il montaggio, la musica, cioè ci sono alcune cose, sono fondamentalmente scene a due, o Giuda con San Pietro, o Giuda con Gesù, o Giuda con la Madonna, e sono tratti però dagli scritti di Maria Valtorta, hanno fatto un capolavoro, perché sono stati fatti sulla base di questo libro, e questi in un'ora e dieci, hanno fatto un concentrato, ovviamente, su 700 pagine non puoi esaurirle in un'ora e dieci, però tutti quanti i tratti salienti di Giuda sono proprio splendidamente rappresentati, proprio i capi saldi della sua personalità, di quella personalità che l'ha portata alla dannazione. È fatto benissimo, per cui, se mi posso permettere, lo consiglio vivissimamente. Veramente complimenti anche agli attori che sono molto molto bravi, a chi piace il teatro, a me tra le tante cose che piacerebbero tante, ma chiaramente essendo un sacerdote chi ci mette mai via dentro un teatro, però ammiro molto la recitazione teatrale, perché è di una difficoltà, per quanto mi riguarda, enormemente superiore a quella cinematografica, quando uno sta in teatro non è che se ti sbagli rifai la scena, quindi io sono sempre molto sono sempre stato molto ammirato, diciamo così, da questa arte dell'uomo, quindi è chiaramente arte acquisita, però comunque fatto benissimo, questa cosa si vede benissimo, cioè Giuda dà la colpa di come lui era, compresa le colpe estreme, a Gesù. Attenzione figlioli e miei cari, che questo è un atteggiamento frequentissimo, questo è una delle tante forme di varianti, chiamiamole così, Adesso ci sono le varianti delle malattie presunte, vere, reali o immaginarie. Ecco, ci sono anche le varianti di una cosa che si chiama il fatalismo, ossia il voler andare a chiedere o attribuire alla volontà di Dio, quindi all'azione esclusiva della volontà di Dio, ciò che non è esclusivo della volontà di Dio, ma è che è proprio della nostra, certamente aiutato dalla volontà di Dio attraverso la grazia, ma non sostituito. Dio non si sostituisce a noi nell'agire. Ricordate che lo fa larissime volte, cioè pensate, io sono sacerdote, tanto per far capire alcune cose. Allora, voi sapete bene che io non ho il potere di rimettere nessun peccato, io non ho il potere come uomo di consagrare nulla, di far scendere Gesù Cristo sull'altare. Sono poteri che ti conferisce l'ordine sacro, per cui, per questo consagratore deve essere sempre rispettato e venerato chiunque sia, onorato chiunque sia, perché ha dei poteri divini, non sono i suoi. Però, non è che io vado in trance quando assolvo dei peccati o quando consacro, cioè quindi Gesù mi usa perché in quel momento uno è uno strumento passivo, cioè in quel momento io presto la mia persona al Signore, ma è Lui che opera attraverso di me. Ma come opera, però, anche in quel caso, capite? Anche in quel caso in cui l'azione, la causalità efficiente è completamente divina, perché io non potrei mai fare una cosa del genere, però io vengo adoperato in maniera cosciente, non è che dormo o sto in trance, vado in estasi, cioè no, non in estasi, in trance, e quindi entrate in trance, stendo le mani e quindi faccio una magia. No. Io dico, molto semplicemente, all'interno del rito sacro che è la Santa Messa, le parole della consagrazione, standoci con la testa, perché se le pronunciassi male o standoci con la testa, la consagrazione non avviene, eppure l'azione è completamente da attribuire, cioè io non centro niente con quello che accade sulla tale, sia ben chiaro, però centro in questo modo. Allora, queste azioni, le azioni che forse sono state, tanto per farvi capire, sono, è il massimo grado, diciamo così, della passività, cioè di un'azione che è completamente divina, fatta attraverso l'uomo, ma anche in questo caso non c'è un'azione di Dio fatta senza di me. Partecipo, anche se la mia partecipazione non, come dire, non influisce in nulla sull'effetto. Spero di riuscire a farmi capire in questa cosa qua, perché capire questo qui ci fa anche comprendere tante cose. È chiaro che Dio li fa in miracoli. Se vuole fare un miracolo con l'eucaristia, chi ha per fare un miracolo eucaristico? Ce ne stanno 25 in tutta Italia, riconosciuti, ufficiali. I più famosi sono Lanciano e Bozzena, ma ce ne stanno altri 23. C'è un libretto che si chiama I miracoli eucaristici in Italia, molto carino, che uno può comprarselo e così vederli andare a approfondire. Allora, dopo che Giuda fa questa cosa, no? Ah, perché non lo fai con tutti così? Dice, ma lo fa Giuda? Perché parli così al maestro? Qui è intervenuto San Giovanni, il prediletto. Non ti senti diverso da quando lo avvicini? Io ero già discepolo di Giovanni, il battezzatore, ma tutto è cambiato da quando Egli mi ha detto vieni. Quindi, la vicinanza di Gesù, solo la vicinanza di Gesù, quando si ha evidentemente però un cuore ben disposto, già essa è benefica. Quando ovviamente si ha un cuore ben disposto, perché se il cuore è ben disposto non c'è, anche se si sta vicino a Gesù, non succede niente. Né alla prova il fatto che esistono pessimi cattolici, anche tra i praticanti, e che esistono purtroppo pessimi ministri. Esistono. Perché? Perché il fatto di aver ricevuto l'ordine sacro, anche il fatto di celebrare la messa, quindi, cioè tu fai scendere dal cielo Gesù Cristo, scende nelle tue mani, offri tu il suo sacrificio in persona a Cristi, ma non è un'azione come dire magicamente santificante. Ti santifica eppure tanto se tu celebra la messa con amore, con devozione, con calma, con pazienza, senza avere la testa per aria, allora se c'è tutte queste buone disposizioni è certo che quell'atto ti santifica. Così se tu vai a messa lo stesso standoci con la testa, arrivi dieci minuti prima, non stai con la testa per aria, cerchi di seguire, rispondi quando devi rispondere, eccetera, 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 nella misura proporzionale in cui tu compri questi gesti quell'atto ti santifica. Quindi mi raccomando, guardate che questa idea fatalistica la chiamo o magica dell'operazione divine è diffusissima. Però è esattamente quello che il Signore non fa quasi mai perché quella cosa che è realizzato in Simone Lozelote, quindi quel miracolo diciamo così istantaneo di cancellazione di un abito molto brutto qual era il rancore lo ha fatto ed è una cosa che fa eccezionalmente perché ha visto in lui certe disposizioni. Ma è comunque una cosa molto rara. Io conosco persone che per esempio si sono liberate dal vizio della bestemmia dall'oggi al domani. Hanno avuto un momento in cui hanno sentito un tale schifo nell'anima verso questa cosa qui che non hanno triturato una bestemmia tutta la vita o conosco persone e credetemi che la stessa cosa non hanno vissuta col vizio della lussuria. Come dire persone che avevano problematiche a livello compulsivo sia a livello di quello che si chiama con linguaggio elegante autoerotismo sia ad altri livelli che dall'oggi al domani e possono riferire data giorno e ora hanno smesso. Hanno smesso. È certo che è una grazia però quella grazia siccome io conosco queste persone queste situazioni quindi lo posso dire è una grazia che è entrata dentro un'anima è malleabile quindi quando ha sentito questa forte spi l'ha accolta e quindi poi a secondora ha chiesto Signore questa cosa non la voglio fare più dammi la grazia di non farla veramente più e quando si chiede una grazia di questo genere io credo che non sto al posto di un domine Dio quindi non posso fare affermazioni apodittiche assolute ma una grazia di questo genere io credo che il Signore sia molto incline a darla perché è quello che chiediamo a Lui con la prima petizione del Padre nostro dicendo sia santificato il tuo nome quando diciamo sia santificato il tuo nome gli diciamo sia santificato il tuo nome in me cioè fammi diventare santo a me è chiaro che per diventare santo la prima cosa che dobbiamo farci è elevarci i peccati e i vizi specialmente quelli grossi se no quando ci diventiamo santi chiaro no? bene attenzione poi a quello che dice Gesù scusate ho fatto un pit stop un po' a lungo ma sapete che in queste catechesi non conta quanto si legge ma conta come si legge no? perché è importante assimilare bene alcuni concetti quindi questa non è una semplice se uno vuole leggersi il libro se lo compra e se lo legge in capa la sua d'accordo? questa è una lettura catechetica no? quindi che serve a accogliere e a far entrare nelle anime alcuni concetti importantissimo quello che dice Gesù dopo che Giovanni si scusa di essere intervenuto a sua difesa no? e dice che lui si rà trista non tanto nelle cose che sente e che vede ma mi rà trista constatare quanto l'uomo è corrotto da Satana e gli travia il pensiero figlioli miei cari tutti sapete tutti avete il pensiero turbato da lui parole che fanno pensare no? a me tanto e parole che dovrebbero come dire indurci a essere sempre tranquilli cauti pacati ecco nelle prudenti mai dobbiamo chiederla questa cosa cioè se noi non avvertiamo diciamo così questo questo rischio questo questo pericolo questa questo non sentirci troppo sicuri di noi stessi del nostro pensiero non è una cosa buona non è come uno deve campare come dire con l'angoscio con la psicosi che in ogni stanza che faccio che non faccio va bene non va bene questo è troppo questo qui però non bisogna neanche campare con la spavalderia o con l'eccessiva sicurezza di sé perché nessuno di noi è impeccabile è infallibile o meno che mai c'è il filo diretto con lo spirito santo non sbaglia mai pensa sempre giusto tutto sta scritto questo qui nessuno e dice verrà il giorno in cui avrete la forza di Dio e avrete tutto per giudicare giustamente e adesso è bene riprendere perché ricomincia il battibecco con Giuda perché Giuda interviene e dice e giudicheremo tutti giustamente beh la domandano e Gesù risponde no Giuda ma parli per noi discepoli o per tutti gli uomini ribatte e Gesù riprende parlo alludendo prima a voi e poi agli altri tutti quando sarà allora il maestro creerà i suoi operai e li manderà per il mondo non lo fai già per ora non vi uso che per dire c'è il messia venite a lui allora vi farò capaci di predicare il mio nome di compiere miracoli il mio nome adesso sentite oh anche miracoli dice sempre Giuda sì sui corpi e sulle anime oh sentite come saremo ammirati allora Giuda è gongolante a questa idea adesso possiamo fare un pit stop guarda faccio la provocazione delle provocazioni la domanda delle domande a te che mi stai ascoltando in diretta e indifferita chiedo ti piacerebbe avere il potere di fare miracoli di la verità te la sentiresti? saresti capace di gestire una roba del genere? di farlo spogliandotene completamente rimanendo umile dimesso distaccato perché così bisogna rimanere non come Giuda te la sentiresti? io no ve lo dico proprio sincerissimamente io non vorrei avere nessun tipo grazie a Dio non ce li ho né di carismi né di doni straordinari zero perché queste cose non bisogna mai cercarle né chiedere perché sono pericolosissime le sapresti gestire io le saprei gestire dovete fare in giro a fare il santone capito che tutti quanti quello del prete è carismatico quello c'ha c'è doni ti guarda i cuori ti dice il futuro ti impone le mani fa questo fa quell'altro no 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 per carità per loro non è mai successo niente ma tanto non succederà mai niente ma veramente io non voglio che succedere e direi al Signore guarda per favore almeno su questo prendi qualcun altro non mi chiedere una cosa di questo genere poi se proprio insisti tanto succederà mai meglio di no perché Giuda guardate che Giuda le ha fatti i miracoli lo vedremo poi Giuda i miracoli le ha fatti capite che Giuda Iscariota ha fatto i miracoli io veramente sono cose che lasciano pensare cioè questo perché Gesù l'ha trattato come tutti gli altri e guardate che Giuda lo vedremo Giuda non è che faceva qualche peccatuccio Giuda andava a donne durante il ministero durante i tre anni di vita pubblica fornicava minimo adesso non mi ricordo se qualcuna delle sue concubine l'ha pure sposata quindi era anche scaduto nel nel peggio ancora che era l'adulterio eppure ha fatti i miracoli non sono quelli l'attestato di santità se uno studia bene San Tommaso d'Aguino questi si chiamano grazie e gratis state certo ordinariamente il nostro Signore non dà queste cose al primo che capita però può succedere come nel caso di Giuda che quei doni siano dati ad una persona che in realtà tutta questa grande santità non ce l'ha perché quelli sono grazie si chiamano appunto gratis state che sono date non a beneficio e per la santificazione di chi le riceve ma dei destinatari gli altri quindi di per sé potrebbero essere dati di per sé anche se ordinatamente questo Signore non lo fa ecco una persona che tutto questo gran santo non lo è invece le cose che dobbiamo chiedere dobbiamo desiderare non sono le grazie gratis date queste ma quelle si chiamano tecnicamente è la grazia gratum faciens che è la grazia santificante cioè la grazia che ti rende grato perché perché ti aiuta a proverire nella virtù e a camminare verso la santità quella possiamo chiederne quanta ne vogliamo dice dammene una tonnellata non c'è nessun problema perché quella non c'è nessuna controindicazione ok e invece vedete Giovanni il puro alla prospettiva di fare i miracoli come reagisce Giuda Gongola e Giovanni interviene ma non saremo più col maestro allora e io avrò sempre paura di fare quel che è da Dio con capacità di uomo eccolo qua vedete io avrò sempre paura di fare quel che è da Dio con capacità di uomo dice Giovanni e guarda Gesù pensierosamente e un po' triste anche Giovanni se il maestro permette vorrei dirti il mio pensiero dice Simone dillo a Giovanni desidero che vi consigliate a vicenda dice Gesù e Simone dice ma maestro sai già che è un consiglio Gesù sorride e tace vedete questo è un piccolo un piccolo momento in cui Gesù mostra di conoscere i pensieri degli uomini anche degli apostoli sorride e tace bello immaginare queste scene bello anche immaginare come può essere stato insomma vivere a fianco al maestro in questi contesti no? dice dice quindi Simone ebbene allora io ti dico Giovanni che non devi e non dobbiamo temere appoggiamoci alla sua sapienza di maestro santo e alla sua promessa se egli dice vi manderò segno è che sa di poterci mandare senza che noi si nuoccia a lui e a noi ossia alla causa di Dio che tutti abbiamo cara come sposa te stai sposata se egli ci promette di vestire la nostra miseria intellettuale e spirituale con i fulgori della potenza che il padre gli dà per noi dobbiamo essere certi cosa farà e noi potremo non per noi ma per la sua misericordi certamente però sentite quanto è saggio quest'uomo tutto questo avverrà se noi non metteremo orgoglio desiderio umano nel nostro operare io penso che se corromperemo la nostra missione che è tutta spirituale con elementi che sono terrestri allora verrà meno anche la promessa del cristo non per incapacità sua ma perché noi strozzeremo questa capacità con il laccio della superbia non so se mi spiego bene ti spieghi molto bene ho avuto torto io ma sai penso che in fondo desiderare di essere ammirati come discepoli del messia tanto suo ed aver meritato di fare ciò che fa lui sia desiderio di aumentare ancora la potente figura del cristo presso le genti lode al maestro che a tali discepoli ecco ciò che voglio dire io gli risponde giuda vedete trova la giustificazione al suo malzano pensiero io bisogna far notare queste cose avevo avuto un malzano pensiero no su che è bello che faccia i miracoli quello gli dice no io preferirei stare col maestro dice no se ci dice andate fateli e se ce lo dice lui lo possiamo fare quindi giuda si sente evidentemente colpito da questa cosa e come dire rimpastare come dire rigira la frittata no quindi dice no io però l'ho detto ma no aspetta io l'ho detto non è che voglio fare il galletto però dunque se questo c'è i discepoli che fa i miracoli questo sto dicendo che grande maestro che sarà se i suoi discepoli fanno questo figuriamoci lui e così giustifica la sua brama del miracolo evidentemente ricordiamo sempre che Gesù ha dato l'opera soprattutto per mostrare la figura di giuda e perché ci possa fare da specchio i nostri pensieri profondi le nostre intenzioni profonde questo può accadere anche a noi ma non per i miracoli ovviamente no quindi quando dobbiamo fare qualcosa che non sarebbe tanto per la quale tutti quanti noi siamo dei maghi proprio dei fenomeni ad andarci a costruire tutta la volta l'impalcatura come dire l'impalcatura intellettuale che è meglio dei ponteggi fatti dalle più grandi ditti di costruzioni proprio perché non si muove nulla per dire sarebbe male ma ho fatto bene proviamo a pensare buone pensate a tutti quanti a me per primo ovviamente e vedremo se non ci se non dobbiamo ammettere sinceramente a noi stessi che non ci troviamo in più di qualche circostanza così allora Gesù riprende e ribatte non è tutto errore nel tuo dire ma vedi Giuda no non è Gesù che parla scusate Simone io vengo da una casta che è perseguitata per avere mare male capito cosa e come deve essere il Messia il Zeroti sì se noi lo avessimo atteso con giusta visione del suo essere non avremmo potuto cadere in errori che sono bestemmia la verità e ribellione alla legge di Roma per cui sia da Dio che da Roma fumo puniti abbiamo voluto nel Cristo vedere un conquistatore un liberatore di Israele un Maccabeo novello è più grande del grande Giuda qui sta parlando non di Giuda escariota per chi non avesse un po' di cultura biblica sta parlando di Giuda Maccabeo Giuda Maccabeo è stato un eroe della resistenza armata appunto del movimento dei Maccabei avvenuta al tempo della dominazione ellenistica su Israele in particolare di Antioco Epifane cioè di questo tizio che voleva paganizzare a forza il popolo di Israele obbligandoli a assumere usi e costumi dei pagani e prima mattatia diede in là alla rivolta e poi il leggendario Giuda Maccabeo ne fece una devastazione era diventato un incubo era diventato un grande eroe un grande condottiero militare però chiaramente una figura del genere aveva ingenerato aveva alimentato diciamo così l'aspettativa di un messia politico di un messia che avrebbe imbracciato le armi arringato le folle e guidato l'esercito di rivolta contro i romani questo solo prosegue Simone e perché perché più degli interessi di Dio abbiamo cercato gli interessi nostri della patria e dei cittadini o è santo anche l'interesse della patria ma che è davanti al cielo eterno quanto nelle lunghe ore di persecuzione prima e di segregazione poi quando fuggiasco mi nascondevo nelle tane delle bestie selvatiche condividendo con esse letto e cibo per sfuggire alla forza romana e soprattutto alle delezioni dei falsi amici oppure quando attendendo la morte già gustavo l'odore del sepolcro nella mia speronca di lebroso quanto ho pensato e ho visto ho visto la figura vera del messia la tua maestro umile e buono la tua maestro e re dello spirito la tua o Cristo figlio del padre che al padre conduci e non alle regge di polvere non alle deità di fango tu oh mi è facile seguirti perché perdona il mio ardire che si proclama giusto perché ti vedo come ti ho pensato ti riconosco subito ti ho riconosciuto sì non è stato un conoscimento di te ma un riconoscere uno che già l'anima aveva conosciuto mi fermo di nuovo cioè la saggezza straordinaria di quest'uomo capite tutti quanti che chiaramente figlia del suo travaglio e in parte anche dei suoi errori quindi è enormemente consolante credo vedere queste cose perché ci fanno veramente comprendere come tutto tutto può concorrere al bene la nostra santa fede divina e cattolica il cristianesimo è proprio la la religione della della speranza per Antonio Masi perché Dio veramente sa trarre dalle macerie di una vita veramente devastato fallita un capolavoro di santità lo sa fare lo ha sempre fatto e lo fa l'importante è che la volontà umana non faccia muro non erga una barriera una un muro di resistenza e inibisca l'azione della grazia e Gesù risponde per questo ti ho chiamato e per questo ti porto con me ora in questo mio primo viaggio in giudea voglio che tu completi il riconoscimento e voglio che anche questi che l'età fa meno capaci di giungere al vero per meditazione severa sappiano come il loro maestro è giunto a quest'ora capirete poi eccoci in vista della torre di Davide la porta orientale vicina usciamo da essa si giuda andiamo a betlemme per primo luogo la dove nacqui è bene che lo sappiate per dirlo agli altri anche questo rientra nel riconoscimento del messia della scrittura troverete le profezie scritte nelle cose con voce non più di profezia ma di storia giriamo lungo le case d'erode la vecchia volpe malvagia e lussuriosa non giudicatevi a dio che giudica andiamo per quel sentiero fra queste ortaglie sosterremo all'ombra di un albero presso qualche casa ospitale sinché il sole è cosciente poi proseguiremo il cammino la visione a termine ecco a questo punto possiamo leggere ancora un pochino si stanno dirigendo verso betlemme ecco là il sepolcro di rachele dice simone allora siamo quasi giunti entriamo subito in città no giuda prima vi mostrerò un luogo poi entreremo in città e posto che è ancora giorno chiaro e sera di luna potremo parlare alla popolazione se vuole ascoltare vuoi che non ti ascolti? sono giunti al sepolcro antico ma ben conservato ben imbiancato il sepolcro di rachele la moglie di giacobbe Gesù si ferma a vera ad un rustico posto vicino gli offre l'acqua una donna venuta ad attingere il dialogo fra Gesù e la donna fatto di domande reciproche è rivelatore di un diffuso sentimento ostile all'avvento di un messia la cui nascita provocò l'orrendo eccidio ordinato da Erode la conversazione prosegue sullo stesso tono con il marito della donna un contadino che accoglie in casa gli ospiti sconosciuti ma ritenuti di dignità di riguardo Gesù che ha dichiarato di essere alla ricerca di vecchi amici ribatte collegando le profezie con i segni di quella nascita tanto contestata e disapprovando l'espressione di di maledizione dell'uomo che si insospettisce lo scaccia di casa insieme con i suoi chiamandolo seguace del falso messia detto questo camminano per qualche metro in silenzio poi Giuda esplode però tu a non farti adorare perché non far curvare nella mota quel lurido bestemmiatore a terra a terra per aver mancato a te messia oh io l'avrei fatto i samaritani vanno inceneriti col miracolo non li scuote che è quello scusate ma questo è tempo di allergia oh quante volte lo sentirò dire dice Gesù ma dovessi incenerire per ogni peccato verso di me puntini puntini concludo io a quest'ora il pianeta terra sarebbe un cumulo di cenere questo però lo concluso io ecco ci sono soltanti puntini puntini no Giuda io sono venuto per creare non per distruggere per distruggere già ma intanto gli altri distruggono te Gesù non ribatte Simone il sentiero il sentiero si sente un singhiozzo chi piange chiede Gesù voltandosi e Giuda è Giovanni ha avuto paura no non paura avevo già la mano sul coltello che ho la cintura ma mi sono circondato del tuo non uccidere perdona lo dici sempre e allora perché piangi chiede Giuda perché soffro a vedere che il mondo non vuole Gesù non lo riconosce e non lo vuole conoscere o è un tale dolore come mi frugassero in cuore con degli spini fatti di fuoco come avessi visto calpestare mia madre e sputare sul volto di mio padre più ancora come avessi visto i cavalli romani mangiare nell'arca santa e far riposo nel santo dei santi non piangere Giovanni mio lo dirai per queste e per infinite altre volte egli era la luce venuta a splendere fra le tenebre ma le tenebre non lo compresero venne nel mondo che per lui era stato fatto ma il mondo non lo conobbe venne alla sua città alla sua casa e i suoi non lo ricevettero o non piangere così questo non succede in Galilea ribatte e sospira Giovanni allora neppure in Giudea ribatte Giuda Gerusalemme nella capitale e orson tre giorni usannavate Messia qui è posto di rozzi pastori contadini ortolani non è da prendere per base anche i cari lei va là non saranno tutti buoni del resto Giuda il falso Messia di dove era si diceva basta Giuda non conviene inquietarsi io sono calmo siatelo pure voi Giuda vieni qui ti devo parlare Giuda lo raggiunge prendi la borsa tu farei le spese per domani e per ora dove albergheremo Gesù sorride e tace la notte è scesa la luna veste tutto di candore gli usignoli cantano fra gli ulivi un rio è un nastro d'argento suonante dai prati falciati odori di fieni caldo direi carnale qualche mugito qualche belato stelle una sentina di stelle sul velario del cielo un baldacchino di gemme vive steso sulle coline di Betlemme ma qui sono rovine dove ci conduci la città è più in là lo so vieni segui il rio dietro a me ancora pochi passi e poi e poi ti offrirò la loggia del re di Israele Giuda si stringe nelle spalle e tace ancora pochi passi poi ecco un ammasso di case franate resti di abitazioni un antro fra due spacchi del muraglione Gesù dice avete l'esca accendete Simone accende un fanaletto errato dalla sua bisacero da Gesù entrate dice il maestro alzando il lumino entrate questa è la camera della natività del re di Israele ma tu scherzi maestro questo è una fetida spelonca ah io non ci sto per davvero ne faccio schifo umida fredda puzzolente piena di scorpioni di serpi forse eppure amici qui la notte del 25 le incenie dalla vergine nacque Gesù Cristo l'Emmanuele il verbo di Dio fatto carne per amore dell'uomo io che vi parlo anche allora come ora il mondo fu sordo alle voci del cielo che parlavano i cuori ed ha respinto la madre e qui no giù da non torcere con disgusto lo sguardo da quelle nottole svolazzanti da quei ramarri da quelle tene di ragno non sollevare con schifo la tua bella veste ricamata perché non strusci sul suolo coperto dagli escrementi degli animali quelle nottole sono le figlie delle figlie di quelle che furono i primi balocchi agitati sotto gli occhi del bambino con la b maiuscola per il quale gli angeli cantavano in gloria udito dai pastori non ebbi altro che di estatica gioia di vera gioia quei ramarri col loro smeraldo furono i primi colori che colpirono la mia pupilla i primi dopo il candore della veste del materno volto quelle tele di ragno i baldacchini della mia culla regale questo suolo lo puoi calpestare senza sdegno è coperto di escrementi ma è santificato dal piede di lei la santa la grande santa la pura l'inviolata la puerpera dei ipara colei che partorì perché doveva partorire partorì perché Dio non l'uomo glielo disse l'incinse di sé lei la senza macchia l'ha premuto tu lo puoi calpestare e per le piante dei tuoi piedi Dio voglia ti salga al cuore la purezza da lei effusa ecco questo è un piccolo show di Gesù che ci fa comprendere cosa lui pensa di sua madre quindi sempre grande attenzione a ogni forma di minimizzazione della figura della Madonna proseguo che abbiamo quasi completato il capitolo Simone si è inginocchiato Giovanni va dritto alla greppia e piange col capo appoggiato ad essa Giuda è sterrefatto poi lo vince l'emozione e senza più pensare alla sua bella veste si butta al suolo prende il lembo della veste di Gesù la pace e si batte il petto dicendo oh misericordia maestro buono della cecità del tuo serbo la mia superbia cade ti vedo quale sei non il re che io pensavo ma il principe eterno il padre del secolo futuro il re della pace pietà signore Dio mio pietà sì dice Gesù tutta la mia pietà ora dormiremo dove dormì l'infante e la vergine laddove Giovanni ha preso il posto della madre adorante qui dove Simone pare il mio padre putativo oppure se lo preferisci vi parlerò di quella notte oh sì maestro facci conoscere il tuo fiorire perché sia perla di luce nei nostri cuori e perché lo possiamo ritire al mondo e venerare la madre tua non solo per esserti madre ma per essere oh per essere la vergine per prima ha parlato Giuda poi Simone poi Giovanni col volto che piange e ride la presso la greppia venite sul fieno udite e Gesù racconta la sua notte Natale essendo la madre già prossima al tempo di partorire venne per ordine di Cesare Augusto fatto bando dal delegato imperiale pubblico sul pizio Quirino mentre era governatore della Palestina Senzio Saturnino il bando era censire tutti gli abitanti dell'impero coloro che schiavi non fossero dovevano regarsi nei luoghi di origine per iscriversi negli albi dell'impero Giuseppe sposo della madre era della stirpe di Davide e di Davide era la madre ubidendo perciò al bando lasciarono Nazareth per venire in Betremme cura della stirpe regale rigido il tempo puntini e puntini Gesù continua il racconto e tutto cessa così avrete notato con la conclusione di questa nostra conversazione che Giuda qui a uno dei suoi momenti abituiamoci in cui ha dei rientri in sé e sembra come dire fare degli atti di mutamento sembra aver capito il problema che vedremo drammaticamente ripetersi anche questo come un mantra è che c'ha un momento di ritorno gli dura due ore un giorno tre giorni e poi ricomincia sono dei flash a testimonianza vedete che non è che esiste una persona che è più cattiva degli altri no Giuda è diventato quello che è diventato per colpa sua quello che dovrà piano piano essere sempre più chiaro è che gli artefici della nostra esistenza siamo noi quindi quando vedeva quelle cose come faceva nostro signore a sollecitarlo a stimolarlo come fa con tutti cioè lo porta a Betlemme gli fa vedere una cosa del genere cioè una spelonca fetida lì è nato il figlio di Dio e questo per quanto fosse come dire attratto dalla gloria dal potere vedendo una cosa del genere diciamo mamma mia e ha il momento di rientro in sé solo però che cosa succede che questi momenti non sono stati in lui non sono stati da lui valorizzati per trarre spunto da quel momento per cominciare poi a lavorare sui suoi veri problemi sulle sue male passioni sui suoi disordini ma sono stati fenomeni sporadici che li sono nati e li sono morti quindi senza produrre dei frutti durature di conversione e Giulio è rimasto sempre lo stesso anzi come sempre accade quando un difetto non viene contrastato combattuto e debellato o vinto andando in progressivo di Geren in questa sua lunga diciamo così calata verso il basso che poi come vedremo confermando l'antico adagio motus infine veloce alla fine è diventata un correre verso il precipizio dopo queste altalenanze che vedremo caratterizzare costantemente la sua parabola esistenziale bene amici ci fermiamo qui io vi benedica e la santa vergine vi protegga e l'audentur Jesus et Maria